Oggi davanti al Momo, mentre sorseggiavamo un caffè, è arrivato un personaggio noto nel mondo calcistico, al dire Andrea Ciaramella, ora allenatore, ma ex giocatore professionista. Andrea, andiamo a domandare il calcio direttantistico e segue da vicino, secondo te, in che modo sta vivendo questo periodo particolare, al dire la querella pastore, tante altre cose che succedono in questo periodo. Sì, dirti Sacker, che sappiamo un pochettino tutto quello che sta succedendo, a questo mondo dilettantistico di serie D e eccellenze, che purtroppo non vive un momento di grande, grande esaltazione. Purtroppo i problemi ci sono, nel senso che le società, i fondi non sono più quelli di una volta e quindi a volte fanno anche delle scelte sbagliate, affidandosi anche per dire a persone del calcio non all'altezza della situazione, solo perché semmai hanno uno sponsor alle spalle e quindi per loro è necessario portare qualche allenatore che possa dare una mano per quanto riguarda l'aspetto economico, soprattutto per iniziare una stagione calcistica. Non è bello, sinceramente non c'è più quella meritocrazia di una volta dove l'allenatore veniva scelto per le proprie capacità, non certamente perché alle spalle ha uno sponsor. Quindi mi auguro che questa tendenza vada sempre più a svanire e che vengono fuori i valori perché il calcio deve essere vissuto sempre come uno sport che fa andare avanti le persone competenti. Senti Andrea, dando uno sguardo alle squadre della Valle Caudine, del Beneventale e della Vellinese, in eccellenza abbiamo tre squadre, a dire Sant'Omaso, Forza e Coraggio col punto interrogativo e Montesacchi. Montesacchi sembra essere abbastanza bene allestito anche perché ha un buon programma alle spalle. Sant'Omaso viene da un'ottima annata. Secondo te possono essere protagoniste nel campionato di eccellenza? Credo sicuramente di sì e io apprezzo molto il lavoro del Montesacchi che sta facendo perché anno per anno programma in tempo e riesce sempre a raggiungere degli obiettivi importanti. Viene da due vittorie di campionato quindi significa che alle spalle c'è una programmazione e oggi la programmazione paga perché a riguardo proprio di quello che dicevo prima l'improvvisazione oppure l'incompetenza alla lunga comunque fa venire fuori quelle che sono poi le difficoltà. Invece quanto programmi e riesci a fare le cose fatte bene come l'ha fatto il Montesacchi è riuscito a vincere due campionati e penso che anche quest'anno sia una squadra protagonista. Per quanto riguarda Sant'Omaso è una squadra che conosco meno però so che hanno anche loro un buon organico, l'anno scorso ha fatto un buon campionato ed è importante continuare su questa falsariga per essere protagonisti anche quest'anno. La forza e il coraggio purtroppo con Taddeo che ha lasciato la società ha perso molto anche perché è stato proprio il creatore di questa società quindi non credo che per il futuro ci sono aspettative importanti per loro. Mi auguro che quantomeno riescono a salvare la categoria. Chiudiamo con il campionato di promozione che vede il Cervinara riorganizzarsi almeno sotto l'aspetto societario. Certamente è il campionato perso l'anno scorso non avendo nemmeno avuto accesso ai playoff pesa ancora ma l'organizzazione che si è data sembra essere voltata verso un campionato diverso. Me lo auguro me lo auguro per la città di Cervinara che è una città che il calcio lo vede in modo molto molto diciamo con entusiasmo molto di pelle quindi meritano sicuramente di andare in eccellenza meritano di fare un campionato di alta classifica e sono convinto che come sento dire che si stanno organizzando che stanno cercando di costruire una società importante perché sai benissimo Franco che alla spalle ci deve essere una società molto organizzata e soprattutto gente competente e ogni tastiero al posto giusto si riesce a fare qualcosa di buono anche perché avendo un pubblico come quello di Cervinara che ogni domenica è riuscito l'anno scorso a portare anche 700-800 unità e fuori in trasferte due 300 unità quindi voglio dire è un peccato vedere il Cervinara in promozione mi auguro le migliori fortune che possa quest'anno gioire per una vittoria di campionato perché se lo merita e perché poi si continua a fare i derby con il Montesarchio perché sono anche queste il sale del calcio le cose belle del calcio. Non possiamo non fare la domanda personale ad Andrea Ceramella Andrea il tuo futuro? Ma io sai benissimo Franco noi ci conosciamo da una vita siamo cresciuti insieme siamo coetanei abbiamo giocato anche insieme a Caserta quindi il calcio lo viviamo in modo molto viscerale e mi auguro che possa venire una chiamata importante nel senso che l'importante per quanto concerne proprio una società seria è che sappia programmare e certamente con queste condizioni mi ributterò nella misca altrimenti faccio fatica faccio fatica a rispecchiarmi in questo calcio di oggi che è fatto ripeto meno di meritocrazia e più di altri interessi quindi se viene una chiamata sarò sicuramente contento di accettarla e di rituffarmi in questo bellissimo punto che è il calcio grazie a tutti grazie a tutti